Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi, nauno in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna. Sulla Firenze Mare, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, verso Firenze. E in Fipili, tra la Strassigna e Firenze Scandici, ancora una volta verso Firenze. Siamo al traffico urbano del capoluogo per i cantieri tramvia in piazza Dalmazia. Informiamo che è chiuso il tratto finale di via Vittorio Emanuele II. I dettagli e i percorsi per chi è diretto a Careggi sono sui nostri canali social. In chiusura per il traffico ferroviario, l'Euronite 35295 Monaco-Roma Termini sta viaggiando con 33 minuti di ritardo. L'arrivo a Chiusi è al momento previsto alle 8.18, salvo recupero. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!